Spiagge, estate allungata ma bagnini divisi Acqua di qualità, metà dei pesaresi beve quella del rubinetto Villavetti spezzata dalla frana, ora partono i lavori Via alla stagione del tartufo, ecco la guida ai pregiati tuberi Domenica Pesero in marcia a sostegno di Ail Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Ritrovati a Rossini News, telegiornale del canale 80 Che in questa serata di mercoledì 20 settembre Apriamo dando uno sguardo alle nostre spiagge Le spiagge di Pesero, domani infatti calendario alla mano Si chiude l'estate ma di fatto non si chiude la stagione balneare Che è stata prorogata fino al primo di ottobre Bagnini però divisi fra chi resta aperto e chi ha già smobilitato Mercoledì 20 settembre siamo alla vigilia dell'inizio dell'autunno Eppure ieri è arrivata la proroga alla stagione balneare da parte delle comune di Pesero Che di fatto ha recepito una direttiva della regione Marche Per provare a distagionalizzare ulteriormente l'estate Portando ad allungare il periodo in cui si possono affittare lettini, ombrelloni E avere servizi di ristorazione balneare Non sono tanti però a Pesero i bagnini che rispondono a questa proroga C'è chi aveva già smobilitato Ricordiamo che gli stagionali terminano di regola al 10 settembre Chi viene preso un po' alla sprovvista da questa proroga dell'ultima ora E chi invece decide di proseguire E di vedere se il tempo meteo assiste anche questa permanenza di ombrelloni lettini Noi come spiagge le lasciamo sempre, ombrelloni lettini Anche dopo la chiusura della stagione che di solito è intorno al 10 settembre Per dare un servizio in più Comunque sono persone che hanno già pagato A livello economico non ci rientra niente Però visto che il tempo è bello Noi togliamo piano piano Lasciando comunque sempre un po' di attrezzatura Perché ci fa piacere che i clienti Comunque se il tempo è bello possono venire Però è proprio la mentalità delle persone Che dopo la fine di agosto e soprattutto dopo la fiera Non hanno più l'usanza di venire al mare Magari vengono a giugno con la pioggia che è freddo Vedi quest'anno Magari settembre che bello Settimana scorsa tempo meraviglioso Spiaggia vuota Quindi è un po' diciamo anche la mentalità della persona Lasciando aperto secondo me La presenza nelle spiagge sarebbe comunque bassa Siccome è un'opportunità Non è un obbligo Perché noi abbiamo l'obbligo di stare aperti Dal primo di giugno al primo settembre mi sembra Che si possa stare aperti fino al primo ottobre O fino al 30 settembre Direi che non cambia molto Quindi chi voleva chiudere chiude E chi è ancora aperto come noi Perché gli hotel hanno gente Rimane aperto Ecco magari anche in questo senso Gli stabilimenti balneari possono essere un alleato Del turismo e degli alberghi Perché i turisti sono anche invogliati A essere qui se c'è poi un servizio balneare attivo Sì ma io credo che nessuno lavora contro il suo interesse Quindi probabilmente gli stabilimenti che chiudono Sono stabilimenti che lavorano prevalentemente con stagionali E quindi a un certo punto della stagione Chiudono perché i costi sono superiori alle entrate Noi magari abbiamo dei contratti con gli hotel Evidentemente loro vendono un pacchetto pensione completa Ombrellone e spiaggia compreso Quindi finché è possibile noi cerchiamo di aiutarli E dall'acqua di mare passiamo all'acqua che sgorga Dai nostri rubinetti Quella che metà dei pesaresi consumano regolarmente Come riportato dall'annuale report Sulla qualità del servizio idrico Di Marche Multiservizi Quasi una persona su due Fra i 270.000 cittadini di Pesero Urbino Serviti da Marche Multiservizi Beve acqua del rubinetto E quanto emerge dal nono report annuale Sulla qualità del servizio idrico pubblicata dalla stessa Marche Multiservizi Un 49% di utenza che riconosce la qualità dell'acqua Che sgorga dal nostro acquedotto E che ha il prezioso impatto ambientale Di evitare nel corso di un anno L'utilizzo di 29 milioni di bottiglie di plastica E il loro trasporto Se lo facesse il 100% dell'utenza Se ne eviterebbero oltre 82 milioni Non solo Consumare acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia Permetterebbe a una famiglia di tre persone Un risparmio di circa 570 euro l'anno Tutte informazioni evidenziate in un report In cui Marche Multiservizi Continua a informare verso un cambio culturale Votato a scardinare il falso timore Di un'acqua non sicura Nel territorio servito da Marche Multiservizi Vengono infatti effettuate Oltre 320 analisi al giorno 117.000 all'anno E dal laboratorio interno e dall'asle territoriale Tutte analisi che confermano Che l'acqua è buona, sicura, a basso tenore di sodio Ricca di oligoelementi Con valori di calcio, magnesio e potassio In linea con quelle delle acque minerali in bottiglia Le nostre telecamere si sono accese Oggi all'estrema periferia di Pesaro Nella frazione di Villa Betti Che da 8 mesi convive con una frana Che ha spezzato in due il centro abitato Con i residenti che da tempo Attendono risposte Risposte che di fatto sono arrivate oggi E la fornite il Comune di Pesaro Annunciando l'imminente partenza Dei lavori di ripristino Da 8 mesi Via Molini Strada con diverse abitazioni Nella frazione pesarese di Villa Betti È una strada letteralmente tagliata in due Da uno smottamento che a inizio 2023 Fece franare la carreggiata Sul crinale della collina Preoccupando i residenti Aumentando i disagi E limitando fortemente gli spostamenti Oggi il Comune di Pesaro Attraverso l'assessore al fare Riccardo Pozzi Ha assicurato che l'amministrazione Ha stanziato 182.000 euro Per un intervento di messa in sicurezza Che entrerà nel vivo Proprio nella giornata di domani Risorse che consentiranno Di rimuovere i metri cubi di terreno Che si sono riversati sulla strada E che la ditta Palazzi Escavazioni Eseguirà durante operazioni Alvio questa settimana E che il Comune punta a concludere Entro la fine del 2023 Un cantiere che si allargerà Occupando con uomini e mezzi Le aree private attigue A quella di intervento Comune che dunque risponde Alle rimostranze di residenti Che si sentivano dimenticati Trascurati E che in questi giorni Hanno trovato una cassa di risonanza Nel consigliere comunale Daniele Malandrino Qui ci sono dei grossi disagi Disagi chiaramente per gli abitanti Possiamo vedere Credo dalle immagini Che lambisce le case Disagi per chi consegna le merci Perché poi qui c'è una zona Industriale, artigianale Abbastanza sviluppata E soprattutto per le case Qui limitrofe Alla frana vera e propria Che hanno Oltre al disagio Hanno anche paura Perché se continua a smontare Adesso ci apprestiamo Alla stagione delle piogge E quindi potrebbe anche Peggiorare la situazione Quando mi hanno contattato Gli stessi residenti Pochi giorni fa Dicendo Guarda che qui i lavori Non sono mai partiti Sono rimasto basito La frana in questione A fine maggio Fu anche oggetto di sopralluogo Da parte dei delegati Della protezione civile nazionale A ruota del riconoscimento Dello stato d'emergenza Susseguente all'alluvione Che aggravò Lo smottamento preesistente Aspettando ipotetici Ristori governativi L'amministrazione interviene Con risorse proprie Sulla strada Di pertinenza comunale Da questa domenica Inizia la stagione Del tartufo Un autunno 2023 Che si arricchisce Anche di una guida Ai pregiati tuberi A cura di Gianluca Carrabs Che ha colmato Di fatto Un aggiornamento divulgativo Che mancava Da circa 25 anni Sta arrivando l'autunno Si avvicina Alla fine di settembre Che è tradizionalmente L'apertura Della stagione Del tartufo Che dal nostro territorio Porta quest'anno Un'aggiunta interessante La pubblicazione L'Italia del tartufo A realizzarla Gianluca Carrabs Da sempre Attento alle politiche Agroalimentari E dunque Si parte con Questo strumento In più Per orientare Tutto un mondo Particolare E tutta quella Utenza che è Interessata a questo mondo Certo Questo è un progetto Importante Che parte dalle marche Ma avvolge tutta l'Italia Abbiamo ridisegnato La geografia Del tartufo in Italia Perché abbiamo censito 138 comuni tartufigeni Con un progetto Crossmediale Una guida Ma un sito internet L'Italia del tartufo Per promuovere Quelle città Che hanno creato Con il tartufo Un valore aggiunto Per l'attrazione Del turismo Per il rilancio Dell'economia E soprattutto Per il rilancio Delle aree interne Le marche Fanno da protagonista Hanno 34 comuni Su 138 Dimostrano che C'hanno un grande Valore aggiunto Sul tartufo Quindi Questo anno Partirà La raccolta del bianco Fra poco Come ha detto Sarà una grande annata Iniziano Le fiere Abbiamo Pergola A Pecchio Poi arriverà Acqua Lagna Poi ci sarà Amando Tutte le fiere Quindi ci sarà Un grande momento E un grande attivismo E quindi L'abbiamo voluto raccontare In questo volume L'Italia del tartufo Una valorizzazione Che però va oltre L'eccellenza Nostra interna Ma vuole anche portare Alla scoperta Di quegli angoli Magari meno conosciuti Su questa specialità Agroalimentare Certo Perché Questo percorso È un percorso Tra i borghi È un percorso Tra i piccoli paesi Tra i tanti campanili Di cui è fatta l'Italia Della grande biodiversità Demografica Di questo paese Abbiamo raccontato I siti minori Abbiamo raccontato Un'Italia Che molte volte Nessuno conosce Ma che è bellissima È straordinaria E quindi Grazie al tartufo Si scoprono I giacimenti naturali Quali sono i monumenti Quali sono I posti più belli Da vedere Dove mangiare Dove dormire E qual è la magia Del tartufo Quindi abbiamo messo insieme Tutte queste notizie Che possono creare Per il lettore Per l'utente Un percorso vero In Italia Ma non nelle grandi metropoli Non nelle grandi città Ma proprio Nei piccoli comuni Dove si trova E come si può Reperire l'Italia Del tartufo Allora Andrà in tutte Le edicole Librerie Sarà disponibile Online E poi ci saranno Delle presentazioni Il 30 Ad esempio Saremo ad Urbino Il 30 settembre Ore 17 Monastero Santa Chiara Dove faremo La prima presentazione Marchigiana Perché c'è stata La presentazione romana Ma adesso ci sarà Qui la presentazione Marchigiana Ad Urbino E partiremo Proprio Con le 100 miglia Del gusto Nelle terre del tartufo Quindi ci sarà Un equipaggio ACI Che arriverà a Urbino Con delle macchine d'epoca Presenteremo il libro E poi andremo Ad Acqualagna E poi andremo A Pergola Quindi come vedi È un fil rouge Anzi fil green Che tiene insieme Tutto il mondo Del tartufo Tutte le aree Interne È tutto un turismo Che destagionalizza E che parte Proprio dai piccoli borghi Ed ora Diverse notizie In tema di salute Cominciamo Da Vallefoglia Perché questa mattina In piazza della Repubblica Montecchio È stata presentata La festa Del donatore Organizzata Dall'Avis comunale Proprio di Vallefoglia Festa che di fatto È partita già oggi Con la inaugurazione Di un nuovo Defibrillatore pubblico A servizio Del territorio Festa che avrà Ulteriore corpo Venerdì All'hotel Blu Arena Quando ci sarà La premiazione Dei donatori Emeriti E la consegna Dei attestati Dei corsi Di primo soccorso E di BLSD Che insegna A soccorrere I soggetti colpiti D'arresto cardiaco Improvviso Mediante Rianimazione Cardiopolmonare E defibrillazione Precoce Ancora salute Pietrarubbia Si conferma Per il secondo anno Consecutivo Il comune Delle Marche Più generoso Per la volontà A donare organi Con un indice Del dono Di 76 su 100 Tutti coloro Che hanno registrato La volontà di donare Al momento della richiesta O del rinnovo Della carta D'identità Hanno infatti Detto sì Alla donazione Un dato che arriva Dal rapporto Del centro nazionale Tra pianti E riguarda Le dichiarazioni Di volontà Alla donazione Di organi e tessuti Registrati nel 2022 Con l'emissione Della carta D'identità Delle anagrafi Non solo Pietrarubbia Anche la provincia Di Peso Rubino È la più virtuosa Con un indice Del 58,66 E continua L'attività Di implementazione Degli ambulatori Specialistici Nella provincia Di Pesaro E Urbino Da fine settembre Infatti Nel distretto sanitario Di Pesaro Verranno erogate Visite di chirurgia Plastica Grazie ai medici Dell'ospedale Di Pergola L'ambulatorio Di chirurgia Plastica Sarà gestito Dal dottor Adriano Izzo Medico Dell'equip Di chirurgia Generale Dell'ospedale Di Pergola Che è guidata Da Francesco Vittorio Gammarota E ancora Fondazione Cassa di risparmio Di Pesaro Che fra i partner Storici Di fondazione Ant sul territorio Marchigiano Conferma Il proprio impegno Verso le persone Malate di tumore Assistite da Ant Nella provincia Di Pesaro Urbino Anche quest'anno Infatti Come nel 2022 Il contributo Erogato dall'ente A sostegno Del vasto ventaglio Di attività Ant È stato Di 10.000 euro Questo sostegno In particolare Intende appoggiare Ant Nella sua missione Di portare al domicilio Di chi ne ha bisogno Le cure necessarie Ad affrontare In piena dignità La malattia E le ultime Fasi di vita E questa sera Grande serata Di basket La Vitri Frigo Arena Con il Memorial Alfonso Ford Che vedrà La VL impegnata Contro l'Alba Berlino In un match Il cui incasso Sarà devoluto Ad Ail Un sostegno Alle famiglie Che lottano Con le leucemie Che si potrà Ulteriormente Allargare Domenica Con la camminata Cittadina Prop in favore Di Ail 24 settembre Ore 11 Dalla palla di Pomodoro Un appuntamento Che Pesaro Vede Partecipe Da anni In concomitanza 82 città italiane In favore di Ail Posso soltanto dire Partecipate numerosi Perché la vostra Partecipazione Tra l'altro È a fronte di un'offerta Di 10 euro Dove Ogni partecipante Riceverà Una sacca sportiva Con dentro Dei gadget Carini Molto carini Alla maglietta Eccetera eccetera A fronte di 10 euro Di contributo Per questa cosa Dove andranno Questi denari Andranno Al sostegno Della ricerca Andranno Al potenziamento Delle cure domiciliari E soprattutto Andranno In aiuto A quelle persone Che hanno bisogno Di Ail E che Da tanti e tanti anni Ospitiamo Al villaggio E non a caso Il prossimo anno Quando Pesaro Sulla capitale La cultura Ail Pesaro Per l'appunto Compirà 50 anni E quindi stiamo preparando Una grande festa Per questa cosa Perché in 50 anni Di cose ne sono state fatte Tantissime Sono onorata Di partecipare A questa iniziativa Organizzata da Ail In occasione Della giornata mondiale Per la leucemia Io nel mio lavoro Mi occupo di promuovere Uno stile di vita sano E attivo Attraverso l'attività fisica Ed è per questo Che ho un canale social Che è seguito Da più di 130 mila persone Sono felicissima Perciò Di guidare Tutti i partecipanti A questa bellissima manifestazione Quindi ci vediamo domenica Vi aspetto numerosissimi Le richieste sono arrivate Tanta gente chiede Dove si può trovare E ricordo Che l'appuntamento È dalle 9.30 Alla Pala di Pomodoro Puoi poi partire Alle ore 11 Per questa camminata Pesarese Alle 11 Dalla Pala del Pomodoro Di Pesaro Si proseguirà In direzione Moloco E poi si tornerà indietro Verso il casco di Valentino Per poi terminare Di nuovo Alla Pala del Pomodoro Concludiamo con lo sport Primi gol E prima vittoria Per la Vispesaro Che ieri sera Nel turno Infrasettimanale Ha battuto Lentella Per 2-0 Nell'ultima gara casalinga Giocata nel neutro Di Recanati Per il rifacimento Dello Stadio Benelli Vittoria di carattere E di qualità Per la squadra Di banchieri Che si mette in marcia In questo torneo Grazie alle reti Di due under Da Pozzo Che ha sbloccato Il match nel primo tempo E Iervolino Che l'ha chiuso Al 94 Sabato il cammino Della Vis continua In trasferta A Gubbio E si conclude qui Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Prima di salutarci Vi ricordiamo La nostra prima serata Che in questo mercoledì Alle 21.20 È dedicata Al nostro speciale Realizzato a Montecchio Di Vallefoglia In occasione Della diciannovesima Sagra della Polenta Tenutasi Nello scorso weekend E poi vi ricordo L'appuntamento Con l'informazione Su Rossini TV Che torna puntuale Domattina in diretta Alle 7.20 Con Buongiorno Rossini La nostra rassegna stampa Che vi tiene compagnia Tutte le mattine Dal lunedì al sabato Termina qui Il nostro telegiornale Rossini News Telegiornale Che tornerà domani sera Come di consueto Alle 19.30 Nel frattempo Vi salutiamo E vi auguriamo Un buon proseguimento Di serata In compagnia Dei nostri programmi Che tornerà domani